Il ritorno di Affari Tuoi su Rai 1 mercoledì sera, il pubblico di Rai 1 ha assistito a una nuova entusiasmante puntata di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino. Questa volta il protagonista è stato Paolo, noto come il Cumenda, un pensionato felice della Liguria. Nonostante le critiche ricevute sui social, Paolo ha dimostrato di avere un grande spirito e una personalità coinvolgente durante il gioco. Un inizio scoppiettante. La puntata è iniziata con un'atmosfera di grande entusiasmo. Paolo, accompagnato dalla moglie Grazia, ha affrontato la gara con determinazione. Con tanti pacchi blu da aprire, il pubblico si è subito lasciato coinvolgere dall'energia positiva che alleggiava nello studio. Stefano De Martino, con il suo carisma, ha saputo mantenere alta l'attenzione, rendendo ogni momento del gioco emozionante e divertente. Colpi di scena e risate. Nonostante alcune offerte rifiutate e un biglietto della lotteria andato, il momento clou è arrivato quando Paolo ha aperto un pacco contenente 300.000 euro. La delusione è stata palpabile, ma il Cumenda ha saputo reagire con grande classe, dimostrando che la vera vittoria sta nel saper affrontare le difficoltà con un sorriso. La sua esperienza di gioco, unita alla sua capacità di scherzare su luoghi comuni come il Braccino Corto dei Genovesi, ha reso la serata indimenticabile. Un gioco di relazioni e risate. Affari tuoi non è solo un gioco di fortuna, ma anche un momento di socializzazione e divertimento. La puntata con Paolo ha messo in evidenza come le relazioni umane possano arricchire l'esperienza del gioco. La sua interazione con De Martino e gli altri tre participanti è a crea di leggeretezza e spensieretezza, dimostrando che anche in un contesto competitivo, di riportare il gioco. La sua interazione con De Martino e gli altri tre sono stati e riportare il gioco. La sua interazione con De Martino e gli altri tre